Ammiraglio e Giorgio, il 22 giugno lascerà l'incarico di capo di Stato Maggiore della Marina dopo tre anni di intenso lavoro. Come si sente? Beh, tanto sono tre anni e mezzo, voglio puntualizzare perché ho vissuto ogni giorno come fosse l'ultimo o come fosse il primo, a secondo di come lo si guarda dal punto di vista dell'investimento emotivo e dalla fretta che avevo di portare a casa dei risultati diciamo coerenti con quelli che erano i miei progetti, progetti che ho sviluppato in tutta la mia vita in Marina. Quando sono arrivato a fare il capo della Forza Armata io avevo già in testa esattamente le cose che volevo fare, le avevo maturate almeno negli ultimi vent'anni, quindi ecco anche perché siamo riusciti a fare rapidamente tante cose. Mi sento come chi diciamo sta per morire almeno in parte, è una parte importante di me, quindi mi sento assolutamente malissimo, mi sento malissimo, mi sento, devo essere sincero, anche un po' disperato per certi versi, disperato come chi si allontana da quella che è stata la famiglia per una vita, per 45 anni, direi anche di più perché io sono nato in Marina nel 1953, mio papà era in Marina già da molti anni, era già ufficiale superiore, era capitano di Corvetta e quindi da subito io ho respirato, amare delle navi, delle nostre basi, tramite il mio papà ho imparato ad amare la Forza Armata. Non ha mai avuto altri dubbi su quale Forza Armata abbracciare? No, Forza Armata assolutamente no, considero che io ho una passione viscerale per il volo, l'ho sempre avuta, ma ciò nonostante ho cercato di, come dire, volevo diventare pilota, ma pilota della Marina Militare, quindi tra le Forze Armate non ho avuto dubbi. Ho avuto dubbi in un solo momento della mia vita quando, siccome avevo una passione per la fotografia, molto forte, sviluppavo foto in bianco e nero, erano gli anni di Antonioni, Blow Up, quel periodo là, i grandi fotoreporter, Life, stessa epoca in Italia, la rivista fotografica, quindi ero veramente appassionato ed ero anche piuttosto bravo, in particolare nei ritratti, e quindi sia di persone che di animali, quindi ho dei ritratti fatti da me di cani che sono bellissimi, ma detto questo, era rimasto lì sotto traccia, facevo fotografie da quando avevo 15 anni, che sviluppavo, eccetera, in accademia, quasi alla fine del primo anno, mi ricordo con un mio carissimo amico, Francesco Longanesi Cattani, lui poi ha seguito la sua passione e ha lasciato la Marina dopo il Vespucci, e io invece ho avuto qualche giorno, una settimana o due, in cui ho avuto questa piccola crisi, poi ho fatto il Vespucci e da allora ricordo che non ho mai più avuto grandi dubbi, quindi ho continuato a lavorare in Marina con il massimo impegno e entusiasmo, e anche con tante arrabbiature, perché non è stata una carriera facile la mia. Un'altra cosa che mi appassiona sono gli animali, quindi vorrei dedicare una buona parte del mio tempo alla protezione dell'ambiente marino, quindi collaborare col WWF, ma collaborare anche con delle organizzazioni che proteggono le balene, per esempio i cetacei, sono alcune delle organizzazioni molto guerriere, come Sea Shepherd, che è un'organizzazione internazionale, ma molto battagliera, quindi mi vedrei bene in quel contesto, insomma, quindi farei il marinaio guerriero, ma a protezione delle povere balene, questo mi divertirebbe molto. Gli ultimi due anni hanno visto molte operazioni in corso da Mare Nostrum, ma nel salvataggio dell'Oma Atlantica, il mare sicuro, e le navi hanno lavorato parecchie ore, molto più del previsto rispetto agli anni precedenti. Sì, e questo è un qualcosa di veramente macroscopico, perché lei consideri che l'aumento è stato del 71%, quindi stiamo parlando di un aumento enorme. Non avevamo più i soldi per fare esercitazioni, eravamo pochissimi, quindi veramente centellinavamo le ore di moto. Poi è arrivata l'emergenza Mare Nostrum, quindi Mare Nostrum è lì e lì siamo partiti a testa bassa, abbiamo concentrato tutte le nostre risorse su questa attività, per fortuna nel frattempo siamo stati finanziati per fare Mare Nostrum e quindi siamo riusciti a recuperare dei fondi che ci potessero pagare il carburante e il compenso forfettario ai nostri equipaggi, insomma che si mature in navigazione. E questo ci ha consentito di navigare di più. Quello che è rimasto carente è l'addestramento alle forme di lotta più moderne. Uno dei motivi credo che ci ha consentito di far fronte però è stato il cambio dell'organizzazione, perché la marina militare di Mare Nostrum non era già più organizzata come la marina di prima. Per esempio avevamo già creato da subito i tre gruppi navali, composti da navi e staff autonomi, un ammiraglio dedicato. Prima ne avevamo uno solo, un solo gruppo navale, sempre per questo approccio un po' ideologico della concentrazione, della semplificazione. In realtà la demoltiplica che abbiamo realizzato con questi tre gruppi navali ha consentito di avere sempre un ammiraglio di primo livello, lanciato anche in carriera, quindi brillante, a comandare delle operazioni marittime. Questi comandanti operativi hanno avuto per loro fortuna l'autorità anche sulla componente logistica di loro competenze. La nostra innovazione, che tanto dà fastidio in ambito Interforza, è proprio quella di aver dato a questi comandanti intermedi la pianezza dello strumento, quindi amministrativo, fanno i contratti, logistico, gestiscono tutte le riparazioni, e di comando operativo. Allora vuol dire che tutto il sistema, base compresa, base navale compresa, viaggia alla velocità delle operazioni. E non è l'opposto. Cosa succedeva prima? Comandante di nave, con avaria, messaggio, richiesta di intervento. La velocità della riparazione, chi la decideva? Bisognava risalire al vertice della Forza Armata, ma questo era un vertice troppo lontano dalla sensibilità e dall'impegno quotidiano. Quindi spesso si aspettava, si perdeva tempo, la componente logistica riteneva magari prioritaria un'altra attività. Ogni competenza, ogni componente basata non sul prodotto, ma sulla competenza, produce degli effetti di autoreferenzialità e di autopropagazione di se stessa. Cioè diventa prioritario la forza e il successo di quell'organizzazione rispetto al risultato. Allora ecco che i logistici spendono soldi magari per rifarsi uffici, per rifarsi sistemazioni dedicati alla logistica, ma non necessariamente funzionali all'impiego. Allora con questo sistema molto banale, molto semplice, è quello di dare al guerriero tutto ciò che gli serve per combattere, si realizza un vantaggio di efficienza di vari ordini di grandezza superiore. Le stesse basi, che fino a tre anni e mezzo fa erano in rovina, con l'erbaccia dappertutto, si sono adesso ritrovate in una seconda giovinezza, perché il comandante di queste sottocomponenti dispone di grandi masse di uomini. All'inizio a forza dice che è stata accorta... Male, malissimo, tant'è vero che addirittura nel libro bianco dell'impostazione iniziale c'era un paragrafo che proibiva questa cosa. Perché devi proibire a una forza di organizzarsi in modo funzionale alle sue esigenze? Ma perché l'organizzazione per funzioni consente di spacchettare le forze armate? Internamente ci sono stati magari un entusiasmo? Assolutamente, da noi è stato veramente un entusiasmo generale e devo dire che i risultati si vedono, perché con poche navi stiamo riuscendo a fare tanta di quell'attività che prima sarebbe stato impensabile. I navi vengono riparati in tempi rapidissimi, arrivano in porto, già tutti si buttano a bordo a ripararle, sistemarle. È un'esperienza che avevamo maturato con la componente aerea della Marina da tanti anni, sicuramente dal 2000 avevamo il cosiddetto doppio cappello, per cui il capo del reparto aeromobili dello Stato Maggiore era anche il comandante delle forze aeree. Da lui dipendevano tutte le basi e tutti i gruppi di uomo. Non c'era più il bisogno di scrivere allo Stato Maggiore della Marina sugli aspetti che riguardavano la componente volo, perché era tutto contenuto all'interno. Quindi il comandante rappresentava sia il capo della Marina sia il capo della squadra. Ed era un elemento di sintesi. Il capo della squadra forniva l'operazione, l'addestramento del personale. Il capo della Marina forniva il supporto per il futuro della componente. Avendo la delega per la gestione dei fondi, non doveva chiedere a nessuno. Lui aveva il suo budget e in quell'ambito lui gestisce e fa quello che vuole. Gestisce il personale. E questa è la stessa cosa che abbiamo fatto per tutta la Marina, le componenti. E il beneficio è immenso. Anche la parte comunicazioni. Ho creato di nuovo il vecchio reparto TIE, che la Marina aveva cancellato un'antina di fa. e ci siamo trovati ben posizionati per la cyberwarfare. Noi siamo gli unici, gli unici tra tutte le forze armate e i corpi dello Stato, a non avere avuto penetrazioni nel nostro sistema di comando e controllo. E il nostro sistema di comando e controllo è diverso da quello della difesa. Noi siamo riusciti a resistere ai tentativi della difesa, ad imporci un sistema meno performante. e lottando abbiamo mantenuto la nostra cosa, che è funzionale alle nostre navi. Quindi noi parliamo con le navi sia in chat, sia sicuro, diciamo in modo classificato e in modo non classificato, senza soluzione di continuità, come se fossero un ufficio. Scambiamo immagini. Tutto questo soprattutto perché abbiamo creato questo team robusto di ingegneri, di ufficiali, di esperti, eccetera, che ci consente di fare in casa le cose. Poi dopo, se avrà tempo, le suggerisco di andare a vedere il tavolo tattico che stiamo sviluppando in marina, che è forse tra i più avanzati al mondo. So che quando l'ho fatto vedere al capo della marina americana è sbiancato. Perché? Perché rispondeva a una nostra esigenza, non a quella dell'industria. Quindi è come lo volevamo noi, un tavolo digitale, un grande iPhone orizzontale, come quelli dei giornalisti che presentano i giornali al mattino, solo che è un oggetto su cui si può lavorare contemporaneamente in tre persone, quindi già questo fa capire la complessità del software, e fa interagire tanti database diversi fra di loro. Per cui è al tempo stesso un portolano, è uno strumento per la pianificazione, è uno strumento per la rappresentazione della situazione tattica, è uno strumento per la condotta delle operazioni tattiche. Il sistema da solo allerta l'operatore se due bersagli stanno navigando di conserva vicini fra di loro per più di X ore, come fanno due navi militari che fanno rifornimento laterale, o una nave che va da 4 a 20 nodi, per dire, o una nave, un bersaglio che emerge, sta fuori tre minuti, poi scompare, poi... Ecco, cioè tutta una serie di cose che oggi sono affidate all'attenzione di un operatore, di vari operatori sparsi tra vari sistemi. Invece oggi, più qualche mese, perché ormai ci siamo arrivati, avremo un sistema che fa la fusione dei dati per conto degli esseri umani e li rappresenta attirandone l'attenzione via via. Nel 2013 ha parlato di crisi della pandemia militare da lì a pochino anni se non si fossero intervenuti con decisione e questo ha portato dal 2014 a una legge navale. Sì, diciamo che da un rapido calcolo veniva fuori che dal 2025 avremmo perso 50 delle 60 navi che avevamo in linea nel 2013 e tra l'altro la maggior parte delle navi combattenti, quindi saremmo rimasti con un'aliquota assolutamente insignificante contando anche le Frem che erano in costruzione. Le sei Frem che erano finanziate, anche contando quelle, saremmo rimasti con 16 navi. Anche ammesso di avere avuto qualche soldi più, avremmo avuto 18 navi. Avere 18 navi significa averne pronte non più di 6, perché ci sono quelle in manutenzione, quelle in addestramento, quindi quelle pronte al combattimento sarebbero state all'incirca 6. I 6 non sono sufficienti a fare praticamente nulla in una situazione di confronto militare. Quindi era una situazione disperata, di cui l'esigenza di andare oltre le normali procedure, del resto è evidente che le normali procedure e il sistema stesso in cui è organizzata la difesa dal punto di vista dello sviluppo dei programmi, della individuazione del futuro delle singole componenti, tale per cui la Marina non risultava penalizzata. È evidente, perché da un'altra parte ci sono stati programmi come gli EFA, F-35, il soldato futuro, quindi soprattutto attività guidate da FI meccanica. Per quello che riguarda la Marina, noi eravamo rimasti al palo con il solo programma delle Frem. Noi avremmo dovuto costruire tre navi l'anno solo per mantenere la linea di 60 navi, che è comunque insufficiente, perché all'Italia servono circa 80 navi per avere un minimo di flotta operativa adeguata al teatro operativo, al Mediterraneo, al Mediterraneo allargato. Di conseguenza l'urgenza di procedere a trovare i fondi, i fondi coinvolgendo il Parlamento. Bisognava andare oltre la difesa, la semplice difesa. E qui mi autorizzò il Ministro Mauro, devo dire, il quale dopo un briefing, a cui ho assistito proprio qui, al Ministero, si è convinto dell'emergenza. E mi ha autorizzato a rivolgere direttamente a internazionale. Cosa che ho fatto, ho interessato molti ministri, a ciascuno di loro ho fatto il briefing, ho fatto vedere il futuro, eccetera. L'altro aspetto che abbiamo ricercato era sviluppare una soluzione che desse almeno 10 anni di certezza di investimenti all'industria, in modo che potesse assumere, formare nuove leve, nuove leve qualificate, perché il problema della nostra industria qual è? Che tende, soprattutto la parte naval-meccanica, a rimpicciolirsi di maestranze endogene e a affidare a subappalti, anche di ditte straniere, dei compiti e dei lavori importanti, spesso con risultati molto mediocri, perché la qualità spesso non è all'altezza. Allora, per l'aspetto investimento abbiamo creato quindi, per tirare fuori soldi, abbiamo fatto due cose. Una, ci siamo inventati questo discorso dei mutui, visto che soldi non ce n'erano, allora dice, beh, facciamo dei mutui. Abbiamo organizzato tre grandi mutui, poi diventati quattro, che ci avrebbero procurato non 10 miliardi come erano quelli che ci sarebbero serviti. Questo è quello che ho detto io alle Camere, diciamo, nel 2013, sono andato alle Camere riunite, alla parte, diciamo, commissioni difesa riunite delle Camere, e lì gli ho rappresentato il dramma della Forza Armata. Presentandogli però anche una soluzione che vedeva e che avrebbe visto a fronte di 10 miliardi un rientro allo Stato di 5 miliardi in tasse immediatamente e 2 miliardi e 4 di cassa integrazione non erogata, perché siccome la industria navalmeccanica era impiegnata al solo 50% della sua potenzialità, questo comportava automaticamente che il 50% della manodopera e degli stabilimenti sarebbe progressivamente stata chiusa, cosa che, infatti, Castellammare di Stabia ha rischiato di vedere accadere. Quindi l'investimento rappresentava, avrebbe portato lavoro per una quantità di industrie non solo grandi, ma anche piccola e media impresa sparse per il territorio nazionale. 55% dei 10 miliardi sarebbero al centro-nord e 45% al sud. Questo voleva dire che in termini di occupazione, per ogni occupato nella ditta principale di navalmeccanica e fincantieri avremmo avuto 6 occupati nell'indotto e avrebbe avuto un coefficiente di redditività del triplo e mezzo, quindi 3,6 euro di ritorno di investimento per ogni euro investiti direttamente in navalmeccanica. Noi rimanemmo sostanzialmente con 5 miliardi e 4. Quindi a quel punto non era possibile fare tutto il nostro progetto, ma una prima tranche. Ecco perché io tuttora mi batto perché si faccia la seconda tranche che consentirà di fare nuovi cacciamini, nuovi sommergibili, naviglio minore. Con questa prima tranche però noi abbiamo realizzato una nuova nave anfibia, cioè un progetto, e poi siamo andati a contratto per la nuova nave anfibia, la nuova nave rifornitrice e questa famiglia di nuovi pattugliatori modulari, perché l'idea era quella di avere una sola linea di unità combattente nel futuro. Quindi avere 16 di queste navi, per ora sono finanziate, 7 più 3 sono, diciamo, previste, approvate dal Parlamento, quindi bisognerà trovare i soldi come si è fatto per l'EFREM nel futuro, ma con queste 16 navi noi andremo a disporre di una sola linea di navi. Alcune saranno meno armate e faranno il pattugliamento, altre saranno molto più armate e faranno le fregate e altre saranno armate con missili di difesa aerea e faranno le navi di difesa antiaerea, ma avranno tutti gli stessi sistemi di base, comprese le centrali operative, i radar, i motori, quindi questo di per sé comporta un vantaggio di scala, diciamo, per quanto riguarda la logistica e l'addestramento, evidente. Quindi, dalla Marina Militare, assolutamente. È un successo commerciale che si interessa anche dall'estero? Eh sì, assolutamente. Queste navi, essendo modulari, poi possono essere customizzate anche dagli stranieri per le loro esigenze. In tutte le attività militari, si parla sempre di dual use, uso duale, ma la Marina sta diventando un uso triplo? Ricordo ancora la missione Medio Oriente attorno all'Africa con la Cavour per le iniziative umanitarie e militari diplomatiche, di fatto ha portato a molte commesse. Quindi c'è anche un ulteriore ritorno. Esatto, ha detto molto bene lei, ha detto molto bene, sì. È un triple use, esatto, perché in realtà quello che ha la Marina inerentemente, da sempre, è il fatto di essere un pezzo d'Italia che si muove all'estero ed è l'unica Forza Armata che può realizzare questo tipo di risultato. Il che vuol dire che io posso fare diplomazia, la cosiddetta diplomazia navale, e a seconda di come configuro queste operazioni, possono essere sia operazioni miacciose, operazioni di amicizia, operazioni di soccorso e operazioni di promozione delle, diciamo, delle immagini industriali del Paese. Ma questa immagine industriale già di per sé è potentemente impersonata dalla nave che con i suoi radar, con i suoi sistemi di alta tecnologia, comunque è un messaggio molto forte. Però se io a bordo di queste navi ci metto anche la tecnologia medica, per esempio, in Italia eccelle, dove l'Italia eccelle, oppure anche altre cose come i mobili, tutto quello che rappresenta il meglio dell'Italia, ecco, effettivamente l'effetto combinato è molto superiore alla somma delle singole componenti, perché è come un force multiplier, lei riesce ad avere a bordo i capi di Stato di Paesi che va a visitare per l'interesse che una nave come il Cavour destra, riesce a fare operazioni chirurgiche, abbiamo fatto più di 100 interventi maxillo-facciali di altissimo livello con i volontari, chiaro che bisogna collegarsi al mondo delle ONLUS, come abbiamo fatto noi, aprirci alla società civile, imbarcare persone che inizialmente non erano necessariamente nostri amici e poi lo sono diventati e poi appunto effettivamente basta pensare ai ritorni economici con l'Angola, con il Monzambico, grandi contratti che sono stati sia del gruppo Finmeccanica, per esempio, con Radar del traffico aereo, sia quelli del mondo più civile tipo il Mobili, per esempio, il Federlegno. Di recente c'è stato anche l'evento Sea Future alla Spezia, avete ospitato nel posto esternale un'iniziativa navale militare e questo è stato compreso da pochi, ma è storia, perché in Italia erano quasi 40 anni che non avveniva un salone in cui anche aziende legate alla difesa potessero presentare. Siamo addirittura, bisogna risalire, ai tempi del Melara Club, che era praticamente l'antesignano di Finmeccanica e Fincantieri, cioè era un raggruppamento di imprese nato per fare la legge navale, quella del 75. C'era Lotto Melara che era un po' la forza più rilevante e intorno a questa si era messi insieme tutte le stesse. Ora, Sea Future, questo era il secondo anno, se uno lo mettesse in grafico vedrebbe una retta che schizza verso il cielo, perché quello di prima è stata una cosa molto embrionale, piccola, e quello di oggi, quello recentissimo, ha visto 28 marine partecipare, quindi un numero altissimo di marine e più di 100 espositori, quindi qualcosa che va dai desalinatori alle telecamere subacquee a sistemi e poi come sempre già sta interessando il mondo civile, perché poi c'era l'università, il restauro delle barche in legno, cioè poi diventa qualcosa che si espande, diventa tutto ciò che è legato al mare, sia sotto forma militare che quella della sicurezza civile o anche della marina mercantile, insomma, quando poi si parla di motori, si parla di motori per qualunque nave, quando si parla di, diciamo, sistemi di produzione elettrica e anti-inquinamento, quindi secondo me effettivamente Sea Future può diventare un piccolo le bourget navale, italiano, quella è una zona poi che si presta, perché da Genova fino a Viareggio, Livorno, è tutta una realtà che vede la marina presente in maniera massiccia, presente anche con elementi come Maritellerada di altissima qualità, Noi abbiamo una grande potenzialità che non è molto compresa, così come non è compresa la marittimità dell'Italia, cioè noi ancora siamo un paese che è impostato in forma sabauda per quello che riguarda le forze armate, cioè non abbiamo mai ancora capito, compreso, e questo è interiorizzato più che compreso il fatto che noi si sia come interesse nazionale gli eredi di Venezia e di Genova piuttosto che quelli della Savoia, e però resta il fatto che la storia ha un suo peso, cioè se l'Italia fosse stata unita dai Borboni probabilmente avremmo una grande marina e un piccolo esercito, insomma. È chiaro che avendo l'Italia stata unita dai sabaudi, dai Savoia, loro avevano bisogno di sterminare i briganti e di tenere massi operai sotto controllo, quindi in primo luogo l'esercito come strumento di sostegno della monarchia e poi timidamente ci affacciamo alla politica estera con la guerra di Crimea e il primo momento in cui l'Italia fa veramente operazioni di grande politica estera è la guerra italo-turca e non a caso avviene a valle di un grande investimento sulla flotta e lì in effetti è la prima volta che la marina riesce a operare in maniera molto moderna arrivando a bombardare e a fare operazioni negli astretti di Dardanelli Beirut cioè mette in ginocchio la marina ottomana e di fatto impone la sconfitta agli ottomani e quindi ma lì è il primo momento in cui noi ci affacciamo in questo modo poi per il resto è difficile cambiare quelli che sono i geni fondanti della nazione quindi noi abbiamo i bersaglieri gli alpini insomma il cuore batte per loro soprattutto insomma parlando della marina c'è una riflessione da fare lei che più oltre insomma l'avrà sperimentato fino a qualche decennio fa le tre componenti terrestre aeree e navale non si potevano molto confrontare con le altre forze armate a parte le forze speciali oggi c'è un'eccellenza in ambito marino in tutte e tre le componenti e poi sta preso in servizio anche l'unico aereo di quinta generazione l'F35 che per quanto se ne parli bene o male alla fine è l'unico in servizio a parte l'F22 americano indubbiamente noi abbiamo fatto dei salti da gigante e tuttavia questi salti da gigante sono una realtà ma di questa realtà ciò che credo sia ancora carente è proprio la consapevolezza sia dal punto di vista politico che dall'opinione pubblica l'opinione pubblica ha scoperto la marina con mare nostrum e con mare sicuro e devo dire che è stata anche la comunicazione che ha fatto la marina cambiando completamente la nostra impostazione quindi essendo molto più aggressivi molto più aperti moltissimi hanno fatto anche la messa in disponibile rendere disponibili le nostre navi per le università per esempio le navi idrografiche le incaccia mine ogni volta che vanno in un porto a controllare se ci sono mine della seconda guerra mondiale ne troviamo tantissime anche di bombe affogate nei fondali eccetera e portiamo a bordo i ricercatori che controllano delle università oppure dell'ARPA eccetera che controllano la qualità dell'acqua quindi abbiamo sviluppato per ogni operazione dei partner ormai consolidati abbiamo fatto più di 20 o 30 accordi adesso non mi ricordo quanti con regioni tra marina militare e regioni direttamente e questi come elemento di concretezza hanno il fatto che quando la nostra nave sempre più lo stiamo facendo va ad appoggiarsi in porti non militari intorno alla penisola e questa è l'occasione per sviluppare attività di tipo sia educativo sia di tipo diciamo di ricerca di ricerca in tutti i sensi e questo naturalmente è un vantaggio per tutti e due per la marina perché abbiamo un contributo d'alto livello di vari scienziati personale professori studenti e naturalmente ha un riflesso molto positivo anche per il mondo civile perché si trova gratis una nave che sta operando facendo altre cose ma ecco perché è gratis perché le farebbe comunque e però è una piattaforma di lusso dove c'è tutti i sensori possibili a cui loro possono aggiungere altre cose di specifico loro interesse e poi come risultato dà un rapporto una consuetudine di impiego che anche lì per noi è strepitoso la Venezia per esempio la Laguna Veneta abbiamo dislocato permanentemente due navi idrografiche lì e qui tutto l'alto adriatico che prima era un po' lasciato in abbandono dal punto di vista delle cartografie adesso sta rivivendo momenti anche l'archeologia subacquea per esempio sta riscuotendo grande grande interesse e la marina a noi viene richiesto sempre più spesso di andare a intervenire quindi credo che anche quello sia un aspetto importante che ha contribuito a farci di nuovo voler bene più di prima uno degli uffici che ha lavorato maggiormente negli ultimi anni è stato proprio la comunicazione in abito marino abbiamo trasformato corrente rispetto forse al resto sul salvato assolutamente questo è proprio vero noi quando siamo partiti avevamo due uffici comunicazione uno che si occupava della comunicazione del capo di Stato Maggiore e uno di una comunicazione generica io li ho messi insieme ho raddoppiato le risorse umane cercando di sceglierle in maniera molto acconcia a noi abbiamo messo anche abbiamo aperto manifestazioni negli shopping center nei mall nei centri commerciali ma cose anche grosse avendo migliaia di visitatori siamo andati al meeting di Rimini siamo stati accolti a braccia aperte perché ci siamo messi nel giusto spirito portando le nostre capacità appunto duali quindi i soccorsi la popolazione la vicinanza il fatto che l'equipaggio non lascia mai indietro nessuno sono valori che bene si sposano anche con i valori che ha il meeting di Rimini abbiamo addirittura portato agli incursori che facevano fare ai bambini la corda doppia con delle palestre mobili no? quelle lì quindi il coraggio un po' di osare la banda noi abbiamo la miglior banda delle forze armate italiane questo lo posso dire serenamente prima erano noi carabinieri adesso siamo noi non c'è alcun dubbio insomma chiunque abbia visto il concerto della Marina Militare vede che siamo a dei livelli che effettivamente possiamo tranquillamente vantarci non abbiamo dubbi in un aspetto quello della comunicazione che è sempre tenuto è sempre sottovalutato ma a livello operativo oggi si parla tanto di ideati come quello dell'ISIS assolutamente ma per il 90% combattono con una telecamera più che con le collotte è esattamente centrato un aspetto importante la communication warfare è uno degli aspetti tra i più importanti quasi paragonabili alla guerra elettronica il soft kill cioè praticamente ottengo il risultato magari senza combattere applicando uno dei principi di Sun Tzu sicuramente lei non sarà un ammiraglio il capo di storia maggiore che verrà dimenticato e probabilmente serviranno anni per riconoscere i suoi meriti speriamo prima io tanto penso che il personale con cui ho lavorato in Marina credo che abbia ben chiaro chi io sia e quello che ho fatto per la Forza Armata me ne hanno dato dimostrazione tantissimo proprio in questo periodo dove sono stato attaccato anche per interessi occulti che hanno mosso questa operazione e questa è stata la consolazione maggiore poi rimangono risultati concreti io credo che pochi ammiragli possono dire lasciando il servizio che nei loro tre anni e mezzo sono andati a contratto con quattro frame che erano state cancellate sostanzialmente per mancanza di fondi dieci pattugliatori una grande nave anfibia una rifornitrice e due navi incursori si tratta di un lascito che porta il mio nome sicuramente perché insomma me la sono cercata voluta conquistata ho parlato con moltissima gente in questo tempo amici stimatori detrattori nemici però il comune denominatore in tutti è stato che comunque De Giorgi ha sempre avuto la stella polare la forza armata il bene questo è stato il giudizio anche di chi non le vuole né le ha voluto bene beh questo mi fa piacere per concludere cosa vuol dire sui uomini magari anche quelli che si sono fatti distrarre da certa disinformazione o dopo 45 anni di servizio chi si è lasciato distrarre vuol dire che ha voluto lasciarsi distrarre insomma a tutti no voglio dire essenzialmente che vado via con un grande senso di orgoglio perché una forza armata che ha fatto così tanto con così poco mi inorgoglisce mi inorgoglisce appunto anche avere avuto questi uomini ai miei ordini e poi vado via anche con tanta nostalgia nostalgia appunto per queste facce di gente che conosco da tanti anni di cui mi sono occupato tutti i giorni bene nel male quindi sicuramente è una grandissima questi sono i due sentimenti principali l'orgoglio l'orgoglio per aver fatto insieme tutto questo percorso tutto sommato portato a una marina perché il concetto dell'insieme è fondamentale perché non mi illudo nemmai mi sono illuso di fare questo solo con le mie forze ma se c'è una cosa ti sono orgoglioso di aver saputo scegliere gli uomini io mi sono sempre circondato degli uomini migliori di quelli che non solo erano migliori intellettualmente ma anche caratterialmente per farla breve vado via triste perché vado via perché in marina ci stavo bene perché sono affezionato a tantissimi di loro perché quando vedo una divisa da marina io mi commuovo però insomma vado via certo del fatto il mio dovere e con la nostalgia sicuramente per un po' sparirò perché non sopporterò di esserci troppo vicino alla marina per un po' andrò a navigare insomma in giro da marinaio da borghese e poi un giorno chi lo sa il destino scriverò un libro però scriverò un libro un libro su tutta la mia carriera togliere qualche sassolino? beh più che togliere sassolini perché i sassolini me li sono tolti in tempo reale insomma io quando ho un problema con un superiore di solito glielo dico e glielo dico sempre in faccia glielo ho sempre detto durante tutta la mia carriera che infatti non è stata una carriera lineare non è stata semplice più volte mi hanno dato per abbattuto per disperso in combattimento e più volte sono sono rinato però sicuramente ci sono delle cose che la gente è opportuna che sappia che sono interessanti anche perché per esempio il fenomeno legge navale chiamiamola così è in sé interessante insomma i contatti che ho avuto con chi li ho avuti come si è arrivati a questo risultato insomma sono tantissimi anni che non si fanno programmi come dire cioè di sviluppo di una componente non solo di una nave cioè non voglio dire un conto è comprare degli aeroplani un conto è rifare l'aeronautica per esempio un conto è comprare degli aeroplani che poi per ritardi del programma vanno avanti per 15-20 anni come durata non conto invece impostare un programma che sia nato per durare 10 anni cioè per avere certezza di finanziamenti ogni 10 anni ecco per questo il libro bianco ritengo che sia vecchio come impostazione che sia assolutamente superato dai tempi come dimostra anche il fatto che gli americani che stai tra i primi a impostare un'organizzazione che noi vogliamo emulare adesso siano tornati rapidamente indietro per cui i capi di forza armata adesso siano di nuovo responsabili della loro quota di budget e dei requisiti operativi per dirmi uno se dovrebbe darsi la politica forse potrebbe avrebbe potuto il suo predecessore di Paola il buon di Paola sì il buon di Paola che è lui che mi ha voluto come capo perché lo devo a lui è stata la sua scelta in certi passi si possono fare forse solo da ministro ah certo assolutamente bene se c'è altro se no cosa dirà le ultime parole al successore è una sorpresa caro Walter no ma il mio successore non gli devo dire niente è stato 44 no quant'è 42 anni in marina siamo stati imbarcati insieme lo conosco benissimo è una persona brillante lascia il timone tranquillo sì assolutamente tranquillo una persona ripeto integerrima ama la marina e quindi farà sicuramente benissimo grazie